La pace è organizzato dai gruppi di azione cattolica, quest'anno centrato su quella che è la prima e vera emergenza delle giovani generazioni, il lavoro. Sentiamo Maria Grazia Lombardi. Se il lavoro e la precarietà tormentano i sogni e intimoriscono le speranze dei giovani, è necessario guardare oltre e trovare il modo di abitare questo tempo instabile. La crisi politica e sociale dell'Italia è al centro del dibattito del Meeting per la Pace, che riunisce ogni anno i gruppi di azione cattolica delle diverse diocesi. Nel salone della parrocchia San Giovanni Bosco, nel quartiere San Paolo di Bari, centinaia di giovani hanno ascoltato le parole di Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano, ex presidente della commissione CEI Problemi Sociali e Lavoro. Bregantini è noto nella comunità cristiana dai tempi in cui era vescovo nella Locride in Calabria, dove arrivò a imporre la scomunica a gruppi malavitosi che danneggiarono alcune cooperative nate da un progetto promosso dalla CEI. E proprio per imparare a creare lavoro, nonostante l'incertezza economica, l'ufficio diocesano del ramo ha allestito degli stand di orientamento per i giovani partecipanti al Meeting 2013. Sentiamo le parole di Monsignor Bregantini al microfono di Enzo Canta. La precarietà giovanile che ormai è diffusa in tutte le case sta diventando sempre più l'emergenza più grande dell'Italia. Giustamente Napolitano l'ha chiamata la questione sociale e anche noi come Chiesa la stiamo riprendendo in maniera densa e profondamente coinvolgente. È un problema di natura etica in primo luogo, è un problema sociale perché tutte le famiglie ne soffrono, ma è anche un problema politico perché rischia di minare la stessa democrazia sociale.